wow wow ragazzi benvenuti in un'altra puntata con Donvito in un altro video non puntata scusate l'abitudine e vi sto facendo questo mini video per dirvi che io ci sarò a Noci all'evento delle vendate mynerd che ci saranno a Noci ci sono stato l'anno scorso e non in malaccio per diciamo tante una fira gratuita e quindi se non sbaglio al solito posto se non sbaglio al solito posto è comunque vi lascio il link in descrizione della loro pagina Facebook e che devi ci vediamo tutti a Noci il 30 l'uno non credo di esserci perché sono impegnato e quindi non ci potrò essere peccato che non ci stanno a essere riducuti e niente ci vediamo il 30 starò in giro cazzeggerò sempre con il mio cartellone spero di riuscire a parlare con Violetta Rocks e fammi fare un po' di pubblicità anche se non la seguo perché non sono amante dei video che fa Violetta Rocks sono poche le ragazze che seguo su YouTube so tre so tre di punta però tre non ne seguo più e niente come sempre vi lascio tutto in descrizione il mio link di Facebook mettete like alla mia pagina Facebook mei followatevi sul mio canale Twitch che apparirà da qualche parte il link con un cina di Twitch ho un account streamlabs per donazioni per chi volesse aiutare e supportare gratuitamente il canale ben accetto perché diciamo ho un piccolo progetto quello di cercare di poter portare più contenuti migliori però se non ho un pc migliore di quello che ho non posso portare contenuti migliori di quello che posso offrire adesso e niente che dirvi ci vediamo a noci e passeremo una bellissima giornata ciao